Conta già un migliaio di tesserati la neonata associazione Evolviamo Pesaro, fondata dall'avvocato Pia Perricci, candidata a sindaco nelle ultime elezioni amministrative con la lista civica Vieni Oltre. Un impegno politico che prosegue nel solco della ricerca della trasparenza e del coinvolgimento della cittadinanza. Io ho visto sempre nascere tantissime liste civiche o rappresentate come liste civiche però tutti questi candidati delle liste civiche spariscono del nulla una volta che non si vincono le elezioni. Il mio invece era un voler cambiare realmente l'amministrazione comunale pesarese nel senso di renderla più umana e più vicina ai cittadini, più partecipata dai cittadini, con più possibilità per i cittadini di partecipare all'amministrazione comunale. Per questo motivo abbiamo pensato insieme a tanti sostenitori di far nascere l'associazione che si chiama Evolviamo Pesaro, lo distingo perché è la A di amo, è maiuscola, proprio perché significa Evolviamoci con amore. Facciamo tutto quello che sinora nella società non è mai stato fatto perché c'è tanta burocrazia ma poca empatia. Noi vogliamo metterci la passione, l'amore, la faccia per cui sì è nata questa associazione che ha sede in via Adige 28, sarà inaugurata penso nella fine prima settimana della settimana di novembre perché ci sono ancora dei lavori in corso. E' un'associazione pronta ad accogliere tutte le esigenze dei cittadini, a portare avanti le esigenze dei cittadini e a continuare a scavare, cosa che ci piace fare, ma non perché vogliamo criminalizzare o vogliamo trovare un criminale, semplicemente perché vogliamo la trasparenza amministrativa, perché vogliamo che la politica sia una buona politica fatta nell'interesse dei cittadini.